situazione meteo in calabria siamo acroparati vedete che sta succedendo stamattina una bella grandinata tempo burrascoso ecco già si scivola vedete mi figuro quello che c'è adesso a camigliatello silano logobucco tra poco nevicherà questi sono i primi segnali adesso è bella grossa ma fra poco sicuramente si formeranno i fiocchi anche a bassa quota siamo a 350 metri sul livello del mare stamattina sta nevigando era previsto beh un capodanno con la neve pronti per andare a sciare